eccoci eccoci happy new year 2020 siamo solo noi con vento 2019 noi ci siamo ma è tuo il dj qua ma parla sempre così anche nell'intimità 20 20 ecco facciamo che siete a casa da soli e lui ti dice qualcosa miglioro in questa versione però in questa versione cosa gli devo dire non so cara ti voglio bene cara ti voglio bene nella versione dj però nella versione dj se chissà sette mesi ci sposiamo al colpo di scena 2020 venite che voi venite che voi venite abbracciate lì colpo di scena bellissimo questi tre si sposano nel 2020 il primo il primo matrimonio a tre ufficiale bellissimo bellissimo sapevi sapevo sapevo metti colpo di scena che l'autista l'autista guardate che autista autista e le dammicelle le dammicelle le dammicelle il testimone le dammicelle nella tavolata da parte vieni qua vogliamo fare però è anche lui anche lui con noi noi tutti insieme abbracciate di covo ed è solo l'inizio è solo l'inizio monica di covo la monica di covo conosciamo monica di covo ma perché conoscere monica è la famosa la famosa e formosa monica non è formosa monica 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 guardate guardate com'è formosa monica la cantiamo ora cantiamo mi sento violentata ti senti violentata colpo grande inizio di serata 2020 violentatissimo violentatissimo per questa non sta bellissimo ma attenzione anche le amiche chiedono anche l'amica dillo dillo cos'è chi ha che nasconde questa monica che noi non sappiamo ancora perfetto ecco giustamente chiedeva chiedevi per il 2020 un bel cazzo però colpo di scena ma ragazzi ma questa monica lascia dei seri dubbi e sorprese monica nel 2019 come ti chiamavi monico donna monica conosciuta da tutti sulla francesca sulla francesca sulla francesca che è una strada veronico e monico e tu chi sei roberta roberto roberto chiaramente roberto fatemi vedere ecco attenzione chiaramente ha già tirato giù la cerniera tra l'altro questa ragazza vuol fare il tempo prima di mezzanotte che hanno protuberanze e attenzione veronico è già è già scernierato eh se si è carica la ragazza un carico non fare i gesti ricordiamo che monico 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 di covo fa il pescivendolo a covo il colpo di scena dai ragazzi salutiamo tutti di nuovo buon 2020 da covo